La zona del termine a Lorenzo Natale di Colle Maggio sotto la lente di ingrandimento da parte delle forze dell'ordine ma anche da parte del comune, soprattutto dopo l'ennesima risa e la presenza di baby gang. I carabinieri ieri hanno arrestato due giovanissimi per le violenze ai danni di due coetanei del novembre scorso nel tunnel che collega il parcheggio a Piazza Duomo. Solo 48 ore prima erano stati arrestati quattro giovani per una rapina in centro. Ad incastrare i due le immagini della videosorveglianza del tunnel che dimostrano dunque l'utilità del sistema nell'ausilio alle forze dell'ordine. È da tempo che la città chiede maggiore sicurezza in quella zona, spesso ritrovo di gruppetti di giovani dediti a violenze e rapine. E allora il comune, oltre alla sorveglianza tradizionale, pensa anche a quella armata. Quindi adesso noi abbiamo un servizio di sorveglianza dalle 14 alle 20, in più ci sono quattro pattuglie che girano, fanno il servizio notturno, in più c'è una vigilanza armata che sarà utilizzata diciamo nelle ore più critiche, quindi la sera. Tenete presente che il tunnel è aperto dalle 5.45 alle 22 durante tutta la settimana e invece il giovedì e il sabato è aperto fino a mezzanotte. Quindi in queste ore notturne, anche per facilitare l'accesso e consentirlo con maggiore sicurezza, si è pensato a una vigilanza armata che speriamo possa scongiurare ogni ulteriore atto di vandalismo. Ma ci saranno anche degli interventi al terminal realizzati da TUA come soggetto attuatore con i fondi del Masterplan. Le risorse per la riattivazione del tapirulana però si stanno trovando, si tratta di una cifra molto alta. Questi fondi Masterplan che erano destinati alle autostazioni sono stati adesso, attraverso questa modifica, la modifica di questo vecchio protocollo di intesa, saranno utilizzati proprio per questo restyling delle terminal che io vi dicevo. Quindi per il tunnel provvederemo in maniera più adeguata, stiamo cercando risorse superiori a quelle nel passato previste perché ovviamente il lavoro deve essere fatto una volta per tutte, in maniera tale che questo tunnel possa essere finalmente fruibile al 100%.